Salve, mi chiamo Gerardy Crispo, ho 16 anni e parteciperò al Napoli Piano City presso la chiesa di San Gennaro all'Ulmo il 5 e il 6 ottobre con la musica di Schumann. Salve, mi chiamo Gerardy Crispo. Salve, mi chiamo Gerardy Crispo. Salve, mi chiamo Gerardy Crispo. Salve, mi chiamo Gerardy Crispo.